Vi ho già detto che riprenderemo il volo appena passato il maltempo. Sì, ma lei si rende conto che so tre ore che ci sta a dire la stessa cosa? Appunto, lei forse non ha capito che io non voglio aspettare qua, io non sono tutti, io sono io, ha capito? C'avete una saletta VIP? Documento? Eccolo qua, documento. Possiede una VIP card, signore? Una VIP, ma come no, te la chiedo a lei, già fa questa chiede. Questa no? E questa chiede va bene. Questa no, tessera fedeltà. Tessera fedeltà, già fa questa qui, prendi questa qui anche. Mi dispiace, ma non ci sono sale VIP in questo scalo, signore? Ah, non ci sono sale VIP, neanche la saletta VIP. No, guardate, io sono buono, bello, caro, intelligente, ma quando mi cazzo, mi cazzo. Divento una bercia, divento una bercia, ha capito? Io voglio la mia saletta VIP, per piacere!